sensazioni? Ti vedo tranquillo. Ora sono stanco. Come ti senti adesso senza il campo? No, sono messo da tre giorni fa, quindi devo ancora recuperare la partita. Ti hanno scritto? Qualcuno ti ha scritto? Ho il telefono pieno. Ancora devo vedere il frutto e poi arrivo diretto da Rosario. Ma qualche offerta sei già arrivata? Qualcuno che gioca ad anticipo o no? Te lo giuro. E Allegri non l'hai sentito? Allo stadio? Quando torni Giorgio è già visto quella romantica. Si è l'unica in casa perché poi torna inizio gennaio. Allora ci vediamo lì. L'altra domanda te la devo fare alla Juve quando torni. No, te lo giuro. Un saluto ai tifosi. Grazie della fede. Grazie. Sto piaciuto.